Le donne al di sotto dei 35 anni rappresentano le imprenditrici più innovative, con più successo, sul territorio abruzzese e in larga scala la percentuale più alta nel territorio nazionale. I dati sono diffusi dalla Camera di Commercio di Pescara, che analizza un andamento in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Il primato degli ultimi giorni è il tasso di femminilizzazione delle imprese under 35. Siamo oltre il 30% e la media nazionale è quasi al 28. Il dato è estremamente interessante perché rappresenta un'imprenditoria femminile, giovane, che si lancia in settori innovativi. Quindi non è soltanto l'impossibilità di entrare nel mondo del lavoro da dipendenti, è anche proprio la voglia, dimostra la voglia delle donne di fare impresa, di fare un'impresa nuova. Secondo un altro studio, gli imprenditori italiani, messi a confronto con quelli di altre nazioni, soffrono di scarsa formazione derivante da carenze nel campo scolastico, che offre programmi meno in linea con gli standard internazionali. Ecco dunque che le Camere di Commercio arrivano a riempire questo vuoto. Noi investiamo moltissimo in formazione, nel scorso anno abbiamo fatto più di 250 corsi di formazione online o dal vivo, fra le 700 e le 1000 ore di formazione coinvolgendo quasi 49.000 persone. Quindi il tema della formazione sia al femminile che al maschile, ma tanto più al femminile, è sentito moltissimo nel nostro paese e noi cerchiamo di dare questo contributo attraverso l'offerta formativa interna che la nostra azienda propone.